Musica Oggi 11 marzo, ci siamo regati presso la struttura del San Paolo, centro di medicina cinese e agopuntura diretto dal professor Iomelli e abbiamo chiesto al professor Iomelli se ci fosse una unità rispetto alla riapertura comunque alla mantenuta apertura del centro ma a tutt'oggi da parte della commissione della sanità nulla è giunto il professor Iomelli si è riservato di essere ripreso perché in effetti è abbastanza dispiaciuto dal mancato invio di una missiva che meglio chiarisca l'apertura del centro per cui ci ha detto che ci farà sapere nei giorni seguenti noi nel frattempo ci siamo comunque resi conto che al terzo piano si teniva questo congresso sulla violenza congresso che tra l'altro avrebbe dovuto essere presentato proprio all'interno del centro di medicina cinese ma che poi hanno preferito trasferire al terzo piano dell'ospedale San Paolo dicendo che c'era una sala sicuramente più accogliente noi siamo andati lì al congresso, è tra l'altro un congresso molto interessante perché riguarda la violenza sulle donne era tra l'altro presieduto dallo stesso dottor Michele Schiano, il presidente della quinta commissione della sanità e dal procuratore della repubblica, il dottor Lepore c'era anche la dottoressa Reale che era responsabile del primo sportello antiviolenza dell'ospedale San Paolo e insieme con lei c'erano parte degli avvocati e degli psicologi che l'affiancano in questo lavoro abbastanza complesso presente tra l'altro la dottoressa Monica Maietta, presidente uscente della consulta femminile regionale Campana e la vicepresidente uscente la dottoressa Simona Ricciardelli affiancate in questo lavoro abbastanza complesso e di difesa non solo per le donne ma di violenza anche sui minori c'era il vicequestore aggiunto dottoressa Fava Francesca, vicequestore aggiunto della polizia di Stato e la dottoressa Esposito Concetta della polizia scientifica della questura di Napoli c'è stato durante questo congresso l'intervento di una paziente del centro del dottor Iommelli e anche della dottoressa Daniela Caruso, volontaria del centro che ha colto l'occasione, hanno chiesto la parola che è stata tra l'altro concessa proprio dal dottor Schiano ed hanno consegnato un faldone con una raccolta di svariatissime firme di questa petizione affinché il centro del professor Iommelli non chiuda il dottor Schiano si è detto comunque impegnato in questa chiarificazione rispetto al centro del professor Iommelli per cui la settimana prossima è probabile che si riesca a ottenere qualcosa di ben descritto e definito Rod, sicuramente Rod di cui Italia sarà ancora presente perché siamo una televisione dove tutto deve essere denunciato dove tutto cerchiamo di rendere noto affinché questa città funzioni meglio vi salutiamo e alla prossima